Musica Musica Mi viene chiesto di commentare questa iniziativa riguardante Claudio Monteverdi e la sua musica. Claudio Monteverdi ha onorato Venezia perché ha fatto di Venezia una delle capitali della musica attraverso una riforma, una rivoluzione che ha portato la musica del Cinquecento che era una musica limitata e l'ha portata a diventare uno dei grandi fenomeni culturali dell'Occidente. Si usa dire che in inglese no Verdi without Monteverdi. Non avremmo avuto Monteverdi ma non avremmo avuto neanche i grandi musicisti del nord Europa, del mondo tedesco, senza questo gigante. Noi abbiamo pensato che i luoghi monteverdiani sono la Basilica di San Marco, la Scuola di San Rocco e la Basilica dei Frari dove è sepolto. Abbiamo pensato di unire queste tre istituzioni per ricordare il grande musicista e abbiamo fatto questa celebrazione attraverso delle conferenze, degli studi, delle pubblicazioni e dei concerti. Pensiamo che tutti nei 450 anni possano ricordare questo grande musicista che ha così contribuito alla cultura dell'Europa. Grazie. 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 Grazie.